Buongiorno mie bellissime anime, oggi vi voglio leggere una mia poesia composta poco fa dal titolo via il senso paura con un sottofondo adeguato e inizia così, ti prende così, come pugno dritto allo stomaco, come un pugno indiretto in faccia, ti blocchi i muscoli rigidi, gli occhi sgranati e fissi, il fiato corto e veloce, una goccia di sudore scende lenta sul viso, mille pensieri in un secondo si azzerano veloci come un lampo nella notte, le mani serrate per stringere forte qualcosa che non c'è, la paura dentro te è enorme e pesante come un masso sulle spalle, un urlo strozzato, la mente ordina fuggire via, ma le gambe sono cemento, le vibrazioni sono forti nell'aria, tremi ma non ricordi i nomi, non ricordi i volti, e la paura che ti tiene, ti avvolge, ti sovrasta, sei circondato dalla paura, non vedi vita, hai la sensazione di mani gelde addosso, la tua lingua contro i denti, la tua bocca spalancata, come volessi ingoiare aria, tremi forte, non riesci a toccare nulla, perché non ce la fai? il cuore caloppa più forte che può, lo senti ovunque, nel petto, nella gola, nelle orecchie e persino nelle gambe risuona nella stanza, nelle pareti, la povera e una brutta compagna delle anime, la poesia è finita, spero vi sia piaciuta sulla paura, un bacio sulla fronte a tutti, e vi rimando al prossimo video per servirvi.